La strage avvenuta nella redazione di Charlie Hebdo a Parigi continua tuttora a scuotere l'opinione pubblica e, come giusto che sia, se ne continua a parlare in tutto il mondo e su tutti i media. La Rai, però, a quanto pare non ne ha parlato a sufficienza, o almeno questa è l'accusa scagliata contro la TV di Stato da più parti, compreso il sempre attivo popolo del web su Twitter, che mercoledì si chiedeva come fosse possibile che la vicenda dell'identificazione degli assassini fosse seguita in diretta solo da chi l'ha visto. Un'altra protesta arriva da parte di Roberto Fico, presidente della Commissione di Vigilanza sulla Rai, che ha inviato una nota a Luigi Gubitosi, direttore generale. Critiche anche da parte dell'Usigrai, unione sindacale giornalisti Rai, che sul proprio sito scrive Grave la decisione della Rai di non stravolgere la prima serata delle TV generaliste per seguire i fatti di Parigi. Ma come si può parlare di riforma, di nuova Rai, se poi di fronte a una vicenda di questa portata il servizio pubblico non reagisce mettendo in campo almeno su una delle tre reti generaliste uno speciale di prima serata?